Nel silenzio di media e dei mezzi di informazione, la Lega è pronta a combattere la battaglia sulla legittima difesa. Una battaglia per approvare la nostra legge, la legge della Lega per estendere la legittima difesa, per consentire a cittadini onesti e per bene di potersi difendere all'interno della propria abitazione, all'interno del proprio domicilio, da ladri e criminali. Il diritto di difendersi è un diritto sacrosanto, la difesa è sempre legittima, la difesa del proprio domicilio non può mai essere un reato, ma è sempre un diritto del cittadino. Un cittadino che si difende da un reato non può mai essere messo sotto processo dallo Stato. Con quale diritto lo Stato mette sotto processo un cittadino che si difende da un reato? Reato che lo Stato avrebbe potuto e dovuto impedire. È una battaglia di civiltà, è una battaglia per la sicurezza, è una battaglia per difendere le vittime dei reati, per difendere quel padre o quella madre che difende tutela all'interno della propria abitazione, la propria vita, la propria incolumità, l'incolumità dei propri figli e della propria famiglia da un ladro e da un criminale che entra in un luogo in cui non dovrebbe essere. Ci sono tanti casi in Italia in questi anni, ricordo il caso di Antonio Monella, il caso di Ernest Mattielli, il caso del pensionato di Vaprio d'Adda, Siciniano, cittadini, cittadini oneste per bene che per essersi difesi da un criminale entrato all'interno della propria abitazione hanno dovuto subire processi, incriminazioni, hanno dovuto pagare avvocati, in alcuni casi sono stati addirittura condannati. La vittima condannata, il delinquente, il criminale, libero di poter continuare a commettere reati a piede libero. Questa è una vergogna ed è per questo che la Lega combatterà per i cittadini, a fianco dei cittadini, per approvare la nostra proposta di legge. Ci sono leggi come quella del Partito Democratico, raccolte firme da parte di altri partiti che sono imbroglio e sono truffe a danno dei cittadini, non risolvono il problema della legittima difesa, non tutelano i cittadini e non garantiscono maggiore sicurezza alle forze per bene. La sinistra e il Governo, che oggi sono pavidi e vigliacchi di fronte alla legge della Lega, sappiano che noi siamo pronti a combattere, a difendere, a difendere le persone per bene e ad approvare la nostra legge. L'unica legge seria che difende la legittima difesa e che estende la legittima difesa è la legge della Lega Nord.